ciao a tutti benvenuti a questo video guida sul tamagotchi mitz versione fantasy oggi andiamo a capire come funzionano i giochi nella sala giochi di questa versione di mitz per cui ci accompagna la nostra quinta generazione i miei due gemelli anche se sembrano gemelle ma dettagli quindi andiamo subito alla sala giochi come sempre al tamadepa per cui bisogna uscire di casa icona porta prima opzione per il tamadepa eccoci qua la commessa ci accoglie e dobbiamo scegliere la seconda opzione sarà giochi gioca i giochi e guadagna gocci points allora il primo gioco si tratta del gioco della biblioteca in pratica dobbiamo contare quanti libri presta il bibliotecario per cui 12 a volte li riportano per cui bisogna sottrarli 34 ci sono tre round in tutto si riparte da zero ogni volta 12 3 4 ne riportano due per cui ne restano due 3 4 5 6 1 2 3 4 e basta e 200 gocci points sono sempre il massimo se si passa il primo schema diciamo si guadagnano 60 punti col secondo 140 e poi col terzo i classici 200 gocci points il secondo gioco molto semplice mi serve anche l'indice qua perché è un gioco di velocità bisogna premere il tasto a ripetutamente finché la barra non si riempie del tutto più sia veloci più si fabbrica un vestito bello e più si guadagnano punti ho scoperto che con i pollici non ce la faccio quindi uso gli indici almeno quindi se il vestito è molto bello si guadagnano 200 gocci points chiaramente se la barra si riempie di meno si guadagnano meno punti e questo è tutto per cui giochi molto facili sono miniere d'oro infatti su questa versione di tamagotchi meets spero che il video vi sia stato utile restate sintonizzati per vedere le nuove guide che usciranno presto perché ci mancano ancora un po' di argomenti da affrontare tra cui le connessioni e beh il tamagotchi on giusto per cui grazie a tutti per l'attenzione ci vediamo la prossima e vi auguro una stupenda stupenda giornata ciao a tutti